ciao ragazzi c'è la madonna vabbè cambiamo un attimino ci stiamo facendo un po' prendere la mano con questo green screen che era rimasto in memoria l'ultima immagine vabbè questo non vuole essere il classico video che facciamo di solito sul presentiamo qualcosa di tecnologico ai nostri iscritti no vi vogliamo partecipi molto più partecipi e quindi cosa vi chiediamo vi chiediamo se siete d'accordo di mandarci tramite poi vi diciamo mi spieghiamo esattamente come di mandarci dei video sulle vostre routine di casa quindi se avete creato delle routine e se avete visto il nostro video dedicato alle routine sapete come farle perché parecchie persone ci hanno segnalato che hanno fatto delle routine molto particolari e noi incuriositi abbiamo detto caspita sarebbe bello poterle vedere fatelo sapere qui sotto nei commenti e noi vi daremo delle indicazioni su come inviarci i video naturalmente nel video ci dovete autorizzare a poterli pubblicare perché pensavamo di fare proprio un contest un montaggio di tutti i video delle routine e le migliori valutate poi da voi e alla fine ci sarà un piccolo regalo che vorremmo inviare al vincitore esatto siccome veramente ci si vedono delle cose fatte molto bene carine divertenti utili e soprattutto tante volte e sappiamo che tra di voi c'è c'è ci sono coloro che possono fare cose molto interessanti per poterci mandare i video è semplicissimo andate in google scrivete wetransfer wetransfer.com compilate praticamente la parte dove vi chiede qualche dato la vostra mail e la nostra mail la mail la trovate qui sotto in descrizione nelle informazioni inserite quella allegate il video una volta che è stato inviato a noi arriverà la notifica che abbiamo un video da scaricare e a voi una volta che noi lo scaricheremo arriverà la notifica che è stato scaricato così siamo notificati ci siamo notificati tutti quanti a questo punto faremo il montaggio di tutti i video che arrivano ve lo presenteremo e voi avrete più o meno una settimana per poter votare il video che vi piace di più fatto questo il vincitore riceverà una presa asciugo smart poca roba ma sempre meglio di un dito nel naso poi degustibus in autobus va stessa quindi questa è la nostra idea fateci sapere cosa ne pensate vi vorremmo più partecipi siete così pigri da non andare a vedere il reparto informazioni quindi dite no non giò la mando con wetransfer non giò voglia la nostra mail è tuttotech 2020 numero chiocciolagmail.com comunque qui sotto trovate sia il sito wetransfer sia la nostra mail ve la rimetto in calce qui dentro nelle descrizioni e poi ve la faccio comparire anche qua nel video pensate mai e poi ve la mandiamo anche in 3d a casa e poi e mo basta esatto va bene dai speriamo che questa iniziativa appunto vi sia piaciuta vi vogliamo molto più partecipi e questo ci sembra un modo per poterci divertire tutti insieme e perché no imparare anche da qualcuno che ne sa molto di più o che è stato più ingegnoso più fantasioso a creare delle routine si impara sempre si impara sempre da tutti io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo e fateci sapere ciao